Buon pomeriggio ragazzi, allora Inter Empoli giorno dopo, allora allora sono contentissimo perché sono contentissimo di essere ritornato in Champions League dopo l'anno scorso è stato molto molto importante, sono soldi che entrano alla società, l'Inter che continua a stare in Champions League e la cosa è ottima, ma ci sono tante cose che vorrei dirvi, a parte della partita che comunque nel primo tempo l'Inter era già 2-0, non c'era nulla da dire perché col portiere lì ha preso anche l'effetto d'anguria nel primo tempo, poi nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccarla con Keita e sembrava una partita in discesa, però noi non siamo capaci di fare le cose semplici, dobbiamo complicarci la vita, come sempre, arriva il pareggio, sono una cazzata che è l'anticalcio, veramente, Spalletti, meno male che sei l'ultima partita, ti ringrazio, ci hai riportato in Champions League per la seconda volta, però d'Albert, guarda, appena è entrato d'Albert mi sono messo le mani nei capelli e ho detto, mamma mia d'Albert, infatti il gol arriva proprio da lui, si è fatto ciulare come un principiante, insomma, e questa cosa ha dato il via al pareggio dell'Empoli e lì ho visto un Inter che il colpo l'ha subito, quello sì, però per fortuna abbiamo fatto un contropiede, Vessino tira, palo, Langolan, fa il tapin che non era facile, l'ha messa in rete per il 2 a 1, insomma, fino, diciamo, fino al 2 a 1 è stato un Inter che ha tenuto abbastanza tranquillamente, ma dopo il 2 a 1, raga, cioè è stata una partita shock, una partita che se non era per Andanovic in Champions League non ci andavi, non vincevi e come minimo prendevi quattro gol, come minimo, perché se riguardiamo le azioni del primo tempo, le azioni del secondo tempo, se, per puro sbaglio, magari Andanovic c'era, era in giornata no, quella partita lì la perdevi 4 a 1, perciò, per fortuna non è andata così, siamo in Champions e i voti, diciamo che do la sofficienza piena alla difesa, a parte Asamoah, Asamoah e poi D'Albert che gli do un 4, perché se lo merita tutto, D'Ambrosio gli do 6 e mezzo, soprattutto l'azione delle impoli che a momenti ci facevano il 2 a 2, D'Ambrosio, visto che tutti siete le vedove di Cancelo, D'Ambrosio ci ha portato in Champions League con Andanovic, anche perché Andanovic ha fatto i miracoli e D'Ambrosio ha fatto il miracolo buttando via la palla che per fortuna è andata sulla traversa e poi siamo a spazzare via, lì è stato proprio il salvataggio Champion, come si dice. Poi, insomma, di altro che dirvi, adesso voglio vedere tutti quelli che su Facebook, su YouTube, che erano i classici disfattisti di turno, che dopo Napoli-Inter erano già fuori, l'Inter avrebbe sicuramente perso con l'Empoli, saremmo andati in Europa League, il Milan Champions League, ma non è andata così. Ecco, questa è una grande rivincita per tutti gli interisti, quelli veri, quelli che sono stati vicini alla squadra, vicini al mister, scusate, vicini a ogni partita, a San Siro, anche ieri 70.000 persone per... ne erano 70.000 però muti, cioè io almeno da casa non ho sentito un tifo per trascinare la squadra, magari mi sbaglio, eh. Però il nostro compito l'abbiamo sempre fatto, e anche bene. Purtroppo la squadra ci ha fatto penare fino all'ultimo come l'anno scorso. L'anno scorso avevamo la Lazio, questa l'anno avevamo l'Empoli, insomma, raga basta perché l'Inter non è per tutti, insomma, ci fate penare fino alla fine. Poi, che dirvi, alla faccia dei gufi, alla faccia anche dei milanisti, milanisti e romani che ce la agliettavano, ok? Soprattutto qualcuno che diceva, tranquilli ragazzi, il quarto posto è assicurato, in Champions ci arriviamo tranquilli. Aspetta, eh. Ma siete arrivati i quinti? Eh? Come? Pum, 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 pum. Eh? Anche ieri, sì, avete vinto con una spada che vi ha fatto penare, eh, perché dal 2-0 che vincevate 2-2 e a momenti, perché ci sarà pure la beffa, però vabbè, eh, l'importante è che l'Inter abbia vinto. E poi c'è qualcuno, tipo Luca dello Zoccolo Duro, che si proclamava che il Milan arrivava tranquillamente in Champions League, figura da cioccolataio, eh, ma il Milan non è arrivato in Champions League e, e vedremo il mercato che farà dopo e chi allenerà nel Milan. Già vedo, eh, Luca Gattuso Dimettiti. Luca, te lo dico con, ehm, con simpatia. Gattuso ha fatto un miracolo per farvi arrivare quinti, a momenti quarti, perché fino all'ottanta, l'ottantunesimo, eravate in Champions League, poi ha segnato un'angolanda e vi ha, vi ha cacciato dietro. Insomma, mh, io, io sarei, non dico soddisfatto del tutto, però diciamo che, eh, per tutti i problemi che avete avuto, il quinto posto è giusto. Ehm, vi altro che dire, ah, volevo chiedervi una cosa, ma cos'è che è successo tra Sassuolo e Atalanta, che c'è stata una lissa, ehm, adesso non so con Berardi, insomma è stato espulso, ehm, per chi lo sa, potete scrivermi sotto, perché io guardavo l'Inter e non ho capito cosa è successo a Sassuolo, insomma. Ehm, di altro che dire, insomma, eh, cari amici napoletani, mh, allora, voi dite che l'Inter è scarsa, ok? A me non sembra, perché è stata l'Inter a, come dire, ehm, a voler andare male in quel, quei due mesi lì, perché io credo che l'Inter in forma e Napoli in forma, secondo il mio punto di vista, l'Inter vi passava, perché siamo arrivati a, cos'è, quattro punti da voi, poi, oh, il pareggio, la sconfitta, poi voi avete perso, siamo ritornati sotto, poi, eh, con la partita con la Juventus dovevi vincerla per attaccarvi e abbiamo pareggiato, insomma, sono tutti punti che abbiamo perso da Pugli, come abbiamo perso a Torino, come abbiamo perso col Bologna, eh, tante partite che abbiamo, buttato via tantissimi punti, ma, eh, non è che l'Inter è scarsa, perché sono quei mercenari lì che hanno deciso di non giocare, perché dal momento che hanno voluto, eh, giocare, i, come dire, i gol sono arrivati, le vittorie sono arrivate, perciò, mh, non credo che l'Inter sia così tanto distante da Napoli, vedremo dalla, da cos'è, mercoledì mi pare che arriva, eh, Antonio Conte, sono contentissimo che arriva Antonio Conte, io, eh, è tutto inverno che, eh, parlo di Conte, 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 magari Conte all'Inter, eh, e avevo fatto un video, tempo, tempo indietro, dicendo, eh, che Conte poteva venire all'Inter, perché? Perché quando Conte, mh, è andato via dal Chelsea, che c'erano, eh, le voci già che, che giravano, è un possibile, eh, mh, contatto dell'Inter per Conte, per la, 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 la stagione, mh, successiva, infatti, io, mh, non ho detto nulla, però speravo che, che Conte arrivasse all'Inter, perché, uno, è uno energico, due, mh, quello che vuole, lo ottiene, l'Inter ha bisogno di, di, una persona così, mh, carismatica, che, ha vinto i campionati, è uno che non molla mai, eh, non è Spalletti, Spalletti, è un buon allenatore, ma per portare in Champions, ma, fagli vincere una, una Coppa Italia, o uno scudetto, ce ne passa, ok, che, che a Roma, poteva vincere il campionato, però, i limiti, si vedono anche, nei cambi, no, ieri ha fatto, l'unico cambio, che ha fatto di merda, è stato d'Albert, poi, per il resto, eh, i cambi perfetti, e, di altro, ah, eh, io noto che, mh, adesso, con tutto rispetto che ho, per i tifosi della Roma, e tutto quanto, però, qualcuno, ci pigliava tanto per il culo, ok, e, questi spot, che ci stanno, eh, per l'amor di Dio, però, che continuava a prenderci per il culo, di qua e di là, come se, se la Roma, è arrivata a seconda, ok, e l'Inter, a culo, al, al quarto posto, per, per entrare in Champions League, ma loro sono arrivati i sesti, devono fare il, il preliminare di, ehm, Europa League, perché sono arrivati i sesti, e il Milan un quinto, grazie alla Lazio, se no, magari, manco per le palle entravate in, in, in Europa League, cioè, pensate che culo che avete avuto, il culo, poi, cioè, ci pigliate per il culo a noi, ma che cazzo vorrete prendere per il culo, eh, eh, cioè, sono secoli che non vincete nulla, eh, che parlate a fare? Boh, vabbè, è un piccolo sassolino che mi sono tolto dalla, dalla scarpa, insomma, voi che ci prendete per il culo, ce ne vuole di, di, di ponti che, da, da saltare, eh, eh, vabbè, ragazzi, eh, commentate, lasciate un like, eh, siamo in Champions League, alla faccia dei gufi, e ai milanisti, siamo in Champions!